Prima vi ho detto una cosa molto importante, la densità, che non dipende da quanto è grande o piccolo un corpo. Ho fatto l'esempio dei due gessettini e ho detto che se sono fatti dello stesso materiale, allora hanno praticamente la stessa densità. Infatti la densità non dipende da quanto è grande o piccolo un corpo, che è le quantità che magari dipendono da quanto è grande o piccolo un corpo? La sua massa, quindi la massa sì che dipende da quanto è grande un corpo, è anche il volume. Infatti tutte le quantità che dipendono da quanto è grande un corpo, quanto è piccolo, si chiamano grandezze estrinseche. Quindi massa e volume sono grandezze estrinseche, dipendono dall'estensione del corpo. Invece la densità dipende fortemente dal tipo di materiale. Significa che il ferro ha una densità diversa da quella della paglia, no? E significa che ci saranno delle tabelle, ovviamente già l'ho già messa, l'avete già vista sul mio libro di fisica, in cui vi sarà scritta la densità dei diversi corpi. Quindi, dipendono dal tipo di materiale. Diciamo, le grandezze, quindi, che non dipendono dall'estensione, ma dipendono dal tipo di materiale, appunto proprio come la densità, ma poi vedremo anche altre grandezze, sono delle grandezze intrinseche. Cioè, grandezza intrinseca vuol dire che non dipende dall'estensione del corpo, invece grandezze estrinseche che dipende dall'estensione del corpo. Allora, qual è la definizione di densità e qual è l'unità di misura della densità nel sistema internazionale? Allora, andiamo giù. La densità, intanto, si scrive con... di piccolo. E è una quantità intrinseca, però dipende da due quantità estrinseche, dalla massa e dal volume. Quindi, è il rapporto tra la massa e il volume. Ora, vediamo quali sono le unità di misura da usare per densità, massa e volume. Allora, l'unità di misura... Quindi, questa è la massa. Unità di misura della massa, ragazzi, da usare sempre, sono i chili. Non i grammi. Nel sistema internazionale si mettono i chili. Quindi, volume? Sono i litri o i metri cubi? Metri cubi. Quindi, se vi do un volume in litri, bisogna convertirlo prima in 10 metri cubi, poi in metri cubi. Ora, non ci vorrà un ingegnere per capire la densità che unità di misura ha. Essendo chili diviso metri cubi, per forza sarà in chilo su metro cubo. Quindi, già un piccolissimo esercizio che magari potete fare per casa è questo, però ve lo scrivo qui. E scrivi la densità in notazione... scusate, nel sistema internazionale di misura dell'acqua sapendo che la densità d'acqua è uguale a un grammo su centimetro cubo. Quindi bisogna fare una equivalenza. Vi dico già la soluzione e poi voi provate a farla. Allora, la soluzione è che nel sistema internazionale viene mille chili su metro cubo. Questo è importante, questo è un numero molto importante per l'acqua e anche in generale perché poi noi useremo molte volte l'acqua. Quindi ricordiamoci la memoria. La densità dell'acqua è mille chili su metro cubo. Allora, voi avete connessione di cosa sia un metro cubo con le mani. Un metro cubo significa che devo andare una base di un metro, una profondità di un metro e un'altezza di un metro. O un bel cubo. Se questo cubo lo riempio di acqua, quanto pesa? C'è scritto qui mille chili. Ho una tonnellata di acqua in un metro cubo. Quindi pensate in una piscina quant'acqua c'è e quanto pesa una piscina o qual è la massa di un lago. Sono tonnellate e tonnellate di acqua. Bene. Allora, una cosa interessante e poi il video è già finito e facciamo esercizi è questa. Allora, vi anticipo un principio molto bello che si chiama principio di Archimede ma prima vi chiedo come è possibile dal punto di vista sperimentale se voi avete un oggetto misurare la sua densità? Vi do il gessetto di prima e vi chiedo come faccio a misurare questa densità la densità di questo gessetto idea Dobbiamo misurare la larghezza la larghezza per conoscere il volume e poi con la con la massa del gesso calcoliamo la densità Ok, però va bene nel senso che però vi faccio una domanda bisogna calcolare la massa no? Misurarla diciamo come si misura una massa? Con che strumento si misura una massa? Con la bilancia Allora, attenzione ragazzi che per definizione non si usa il bilancino quello che usano le mamme per pesare le cose o quello con cui ci pesiamo noi perché quelle bilance lì non misurano la massa anche se tutti pensano di sì misurano il peso Ok? Allora, come si fa davvero a misurare una massa? Bisogna usare una bilancia che si chiama bilancia a due bracci Ok? Che è quella che c'è anche nel programma di TTI a forum così no? Nel senso che bisogna creare un equilibrio tra che cosa? Cioè io qui ci metto il mio gessetto di là cosa ci metto per capire che massa ci metto tanti pesetti di cui so esattamente la massa si chiamano masse campione non perché hanno vinto qualcosa ok? Perché campione serve come unità di misura quindi se ad esempio se io so che questo gessetto più o meno pesa 100 grammi più o meno ho una vaga idea cosa faccio? Prendo una massa campione magari di 10 grammi ok? E vedo che però non è abbastanza cosa faccio? ne metto un altro ne metto un altro ne metto un altro allora cosa succederà? Che più o meno avrò equilibrio tra queste due masse poi quando ci sto arrivando vicino non aumento più di 10 aumento di 1 poi aumento di 0 e 1 cioè ci vado sempre più vicino fino a quando le due bilanze sono esattamente alla stessa altezza a quel punto dico ho trovato la massa del gesso perché l'ho equiparata alla massa delle masse campione questo è un modo diciamo ben definito per misurare una massa uno potrebbe dire ma perché non si usa la bilancia normale perché la bilancia normale misura il peso ok e vi dico già una cosa se tu prendi la tua bilancia e la porti sulla luna la massa del gessetto passa da 60 grammi a 10 grammi perché l'accelerazione di gravità è diversa quindi attenzione ok sul misurare le masse delle cose come si fa a misurare il volume ci sono due modi per misurare il volume se l'oggetto ha una geometria ben definita ok questo gesso vedete che è un po' smangiucchiato quindi uno potrebbe dire un gessetto più o meno ha la forma di un cilindro quindi devo calcolare il volume di un cilindro quindi il volume si può calcolare in due modi allora se la geometria è semplice calcolo il volume in modo geometrico con le formule ad esempio vi ricordo il volume di un cilindro è l'area di base per la sua altezza l'area di base è l'area di un cerchio e la formula dell'area di un cerchio è raggio alla seconda per pi greco quindi questa formula qua non è da studiare a memoria però è più o meno calcolare il volume di questo gessetto quindi bisogna misurare il raggio e la sua altezza ma c'è un altro modo più sperimentale per misurare il volume di una cosa idea? va immerso in un liquido ok in cui però deve affondare o galleggiare? deve affondare perché se galleggia ok perde di significato quindi va messo attenzione se il corpo affonda in un fluido e anche un'altra cosa questo corpo non deve puntini puntini nell'acqua non deve dissolversi e non deve essere soprattutto poroso perché se lui immagazzina dentro l'acqua ruba il volume che dovrebbe esserci quindi attenzione a queste cose perché poi noi in laboratorio faremo queste cose e se avete un pezzettino di spugno e dovete calcolare la sua densità non sarà così banale farlo così perché lui assorbe l'acqua e il volume diminuisce non aumenta attenzione quindi deve affondare e non deve essere poroso e non deve sciogliersi allora come fai a misurare il volume se succedono tutte queste condizioni tu prendi un becker di acqua poi ci metti dentro il tuo corpicino e cos'è che succede? che si alza il volume quindi tra l'altro un'altra cosa se voi dovete misurare il volume di una cosa molto piccola non ha senso prendere una bacinella gigantesca altrimenti la differenza non si nota ok? quindi devo prendere un contenitore adatto sono tutte cavolate ragazzi quando uno poi fa gli esperimenti in laboratorio prende un gessettino e poi per fare il gradasso prende una bacina e ci mette dentro 8 litri d'acqua ci mette dentro il gessetto e non succede niente bisogna avere conizione nelle cose ora perché come faccio a misurare questo punto il volume? se ho questa informazione sì allora devo misurare il volume di ciò che sto disegnando in verde perché questo volume è uguale al volume di chi? eh sì anche se non sembra molto dal disegno però il gesso ruba spazza l'acqua e l'acqua dice porca miseria il gesso mi ha rubato lo spazzo io purtroppo devo un pochino salire allora